Il second hand nasce nel 2014, abbiamo aperto in Via del Santo perché era la zona più turistica della città e sapevamo che comunque il fatto dell'usato del second hand era molto in voga nei paesi anglosassone e nel nord Europa in generale. Quindi ci siamo rivolti in primis su quella fascia di clientela. Poi i padovani all'inizio erano un po' più resti a comprare l'usato, poi però negli anni hanno imparato a conoscerci, hanno visto quello che vendevamo, la selezione che abbiamo, la passione che abbiamo. Quindi diciamo che negli anni è andata a crescere e i turisti sono diventati da parte marginale. Prima erano la parte principale, adesso sono diventati da parte marginale perché abbiamo clienti un po' in tutto il Veneto, non solo a Padova, ma vengono ragazzi da tutte le province, anche da Belluno, anche da fuori regione e diciamo siamo diventati abbastanza conosciuti, quindi siamo contenti. Ci serviva uno spazio più largo perché diciamo il negozio in Via del Santo è 100 metri quadri, però ci cominciava a stare setto, quindi abbiamo deciso di allargare e siamo venuti in corsa a tutti i ragazzi che vengono da fuori Padova e hanno difficoltà a venire in centro, che hanno problemi col parcheggio e con la zona di traffico limitato. Quindi abbiamo fatto questo nuovo punto vendita con una selezione leggermente inferiore, prezzi leggermente inferiori, però così riusciamo a rivolgerci a tutti. A chi vuole il vintage selezionato va in Via del Santo, chi invece vuole soltanto risparmiare viene qui in negozio in Via Giordano Bruno e poi lasciamo libera scelta agli clienti su quale negozio preferire.